benvenuti nel paese delle anatre buongiorno quanti biglietti prego? due adulti e due piccolini divertitevi con le anatre ma dove sono le anatre? forse sono andate in vacanza forza, cominciamo a preparare il picnic le anatre si fanno sempre vedere quando... quando noi facciamo i picnic Peppa e George adorano i picnic guardate, arrivano le anatre fermo papà, ci serve del pane per darlo alle anatre oh, beh va bene salve signora anatra arrivano altre anatre ci sono tutti i loro fratelli e le loro sorelle ne arrivano altre ancora questi sono il nonno e la nonna anatra ed ecco che arrivano tutti i zii e le zie e così è finito il nostro picnic anatre, avanti, dite grazie a papà pig prego, è stato un piacere mi piace il paese delle anatre è ora di tornare a casa e quale sarà la strada più breve per tornare a casa? proseguire dritto e entrare nel fiume oh, ne è sicura? sì, entrare nel fiume ma noi non possiamo entrare nel fiume! è vero, è completamente insensato premere il pulsante blu, prego il camper sta navigando sul fiume che bello, il camper si è trasformato in una barchetta chi avrebbe immaginato una cosa simile? benvenuti sulla macchina del futuro guardate, su quella barca ci sono nonno cane e il suo nipotino Danny vento in poppa, papà pig! sapete, adoro venire in questo posto è così pacifico, così silenzioso è Zoe Zebra insieme a suo padre il postino della città buongiorno, signor Zebra è venuto a portarci la posta? no, Peppa oggi è il mio giorno libero non devo consegnare nulla siamo qui per fare un picnic come noi ma allora, perché non facciamo il picnic tutti insieme? sì che splendido picnic mamma, adesso ci possiamo alzare da tavola vorremmo andare a giocare va bene, Peppa Zoe, guarda, ho portato Teddy io ho portato la mia scimmia dinosauro abbiamo anche questo finto servizio da picnic perché non ci giochiamo insieme? oh, ecco le anatre vengono ogni volta che facciamo un picnic da queste parti abbiamo del delizioso tè finto e anche una torta è finta, ma è buonissima vi assicuro che è squisita volete assaggiarne una fetta? accipicchia non credo che le anatre vogliano della torta immaginaria oh beh vuol dire che ce n'è di più per la tua scimmia il dinosauro di George e il mio Teddy deliziosa la mia scimmia dice mai mangiato niente di più buono Peppa George dobbiamo rientrare ciao Zoe ciao ciao siamo tutti pronti? sì, papà Pig forza, torniamo a casa anche noi, Zoe va bene, papà tazze, piatti, scimmia, Teddy oh no tu non dovresti essere qui, Teddy Peppa ha dimenticato Teddy di nuovo oh no George non ha chiuso la porta gelati, gelati è la signora Coniglio, la gelataia buongiorno, mamma Pig salve, signora Coniglio quattro gelati, per favore grazie, signora Coniglio George, ti sei dimenticato di chiudere la porta Polly sarà volata via non ti preoccupare sono sicuro che è ancora dentro Polly non c'è, guardate e adesso che cosa facciamo? nonno e nonna Pig sono molto affezionati a lei forse dovremmo provare a cercarla in cortile guardate, che cos'è quello? che cosa ha visto mamma Pig? è Polly evviva ma un momento adesso come facciamo a farla scendere dall'albero? non c'è problema non c'è problema ci penso io a prenderla vieni qui Polly vorresti una tazza di tè? oh no Polly è volata su un ramo più alto oh mamma fa attenzione papà non cadere dall'albero come fai tutte quante le volte non ti preoccupare starò molto attento dai Polly avvicinati piace il becchime dove starà andando George? ha portato il becchime di Polly lei adora mangiare il becchime George è riuscito a farla scendere dall'albero evviva! che cos'è questo suono? è il cellulare di papà Pig aiuto a Rebecca Coniglio Zoe Zebra Susi Pecora e Peppa piace saltare mi piace la sabbia mi piace il mare insieme a Susi mi piace saltare mi piace cantare mi piace giocare insieme a Zoe mi piace saltare ideona vediamo chi di noi riesce a saltare più a lungo senza fermarsi qui conto io uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ha vinto Zoe urrà 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 sei qui Pedro ti va di saltare un po' insieme a noi no grazie Peppa sto giocando con l'ula hop ula hop ula hop uno due tre ula hop ula hop uno due tre uo due tre quattro cinque sei sette otto ne hai fatti solo otto sì perché sono un po' stanco quelli che mancano li farò più tardi tu sai giocare con l'ula hop emily sì ma ho un mio stile personale emily fa girare l'ula hop con la sua proboscide urrà secondo me tu ne hai fatti perlomeno cento emily Giorgio vuole giocare a salta cavallo a Giorgio piace giocare a salta cavallo giochiamo tutti a salta cavallo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci finalmente siamo pronti ciurmaglia signor barbabianca io dovrei andare urgentemente in bagno posso? anch'io 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 ma si può sapere cosa stanno aspettando? pronto? ciao nonno cane pensavo che ti fossi messa in cammino da un pezzo sì sì stiamo per arrivare in effetti ci ho messo un po' a radunare la ciurma salpate l'ancora e vento in poppa evviva barbabianca terra in vista sono arrivati nel frutteto di nonno pig il vostro obiettivo il vostro obiettivo è impadronirvi di quel tesoro senza essere acciuffati urrà per i pirati urrà silenzio mamma spero che qui intorno non ci siano dei pirati crudeli che vogliono impadronirsi del mio preziosissimo tesoro peppa e i suoi amici si sono impadroniti delle monete senza farsi catturare guarda sono monete di cioccolato cioccolato a tutti piacciono le monete di cioccolato ti ho preso nonno cane è stato preso cercavi di rubare il mio tesoro non è vero? è mio l'ho conquistato e adesso me lo tengo no giammai neanche per sogno oh invece sì grazie capitano og e barbabianca per il bel gioco di pirati che avete organizzato oh è stato un piacere cara eh? sì sì ci siamo divertiti moltissimo mamma cane buon compleanno Jenny è stata la più bella festa di compleanno di tutta la mia vita che cosa sono? beppa ha scoperto delle impronte di chi sono queste impronte? dinosauro oh no George queste non sono impronte di dinosauro su seguiamo la traccia e scopriamo chi l'ha lasciata sì dobbiamo fare piano però così l'animale non scapperà via sì mammina George shh 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 peppa e george seguono le tracce guardate le impronte sono state lasciate da un uccellino è volato sull'albero dove? tieni peppa guarda dentro al binocolo il binocolo ingrandisce le cose vedo uno due tre uccellini chissà cosa mangiano mangiano vermi ma è disgustoso George ha scoperto delle altre impronte sono impronte piccolissime sono state lasciate da quelle formiche stanno raccogliendo delle foglie da mangiare si faranno una bella insalata per pranzo a proposito di pranzo è ora del picnic oh il picnic papa pig hai dimenticato di prendere il cesto non è vero? sì ma non è un problema basta tornare indietro mangeremo in auto e da che parte è la macchina? la mappa ce lo indicherà seguitemi chi ha messo qui l'albero? non è nella mappa oh papa pig ci siamo persi non è così? sì come faremo a ritrovare la strada di casa? George ha scoperto ancora altre impronte guarda che impronte grandi dinosauro davvero interessante come? non mi direte che George ha trovato delle vere impronte di dinosauro? no salire sulle colline non mi è mai piaciuto hai visto? abbiamo vinto la gara no invece non avete vinto perché in quel momento io non stavo gareggiando ma adesso sì provate a prendermi non sei altro che un imbrogliona ciao anatre stiamo facendo un giro in bicicletta avevo dimenticato quanto mi piace andare in bicicletta mi ero scordato anche che salire le colline non mi è mai piaciuto il percorso è molto ripido le colline dovrebbero essere più basse sì ma guarda che panorama stupendo oh povero me è davvero molto faticoso mamma pig tu non stai pedalando scusami papà pig mi stavo godendo la bella vista Peppa e gli altri sono arrivati in cima alla collina ci sono gli amici di Peppa ciao Peppa ciao stavamo per fare una gara di velocità Peppa perché non partecipi anche tu? d'accordo ma soltanto se la gara la facciamo in discesa va bene Peppa e i suoi amici si sono messi in posizione siete tutti pronti? pronti! potrete partire dopo che vi avrò dato il segnale in questo modo Pedro è partito in anticipo no Pedro la gara non è ancora incominciata mi scusi signor pig quello di prima era solo un esempio per informarvi che il segnale è questo Pedro vedami ti chiedo scusa Pedro questa volta la colpa era solo mia ma state attenti perché ora userò questo per darvi il via ha detto via? sì l'ha detto guarda non ti preoccupare Giorgio ora che ne direste di fare due bracciate in mare? sì papà che bello allora mettetevi braccioli coraggio ecco fatto sei elegantissimo con questi braccioli Giorgio tocca a me tocca a me bene ora possiamo giocare in acqua ora l'acqua è molto fredda? è gradevolmente tiepida attenzione sei tu che hai cominciato caro ci siamo schizzati abbastanza direi papino mi piace tanto stare al mare a Peppa e a Giorgio piace andare al mare a tutti piace andare al mare Peppa, Giorgio e ora che ne dite di giocare con paletta e secchiello? sì bella idea mamma papà, papà ti possiamo ricoprire di sabbia? eh beh ti prego papà oh e va bene evviva! Peppa e Giorgio ricoprono il papà di sabbia attenzione ecco fatto e adesso non puoi più scappare la mia testa si sta sonriscaldando mi passi il cappello di paglia beh se me lo chiedi per favore per favore mi passi il mio cappello di paglia? sì, te lo passiamo papino che bellezza oh ma se sale anche Richard non potremo andare veloci come andavamo poco fa lui può andare a giocare con George Richard? ti andrebbe di giocare con George? no George è un dinosauro proprio come il tuo dai andiamo a vederlo Richard ha la stessa età di George Richard vuole vedere il dinosauro di George oh dinosauro George Richard può giocare con il tuo dinosauro? no Richard e George può giocare con il tuo? no George e Richard non vogliono condividere i loro giocattoli George sarà molto più divertente se giocate insieme sei stato davvero molto gentile George dinosauri George non è contento Richard adesso tocca a George e teneri dinosauri neanche Richard è contento perché stanno piangendo? cosa è successo? George e Richard si mettono a piangere ogni volta che giocano insieme e che sono ancora troppo piccoli per saper giocare visto che voi siete già grandi perché non glielo insegnate? giusto potremmo aiutarli a fare un castello di sabbia ottima idea andiamo nella sabbiera George e Richard adorano la sabbia George Richard ascoltate vi insegneremo come si fa un castello di sabbia prima riempite il secchiello di sabbia adesso bisogna capovolgerlo e dargli qualche colpetto con le mani perfetto e adesso sollevatelo ottimo lavoro Richard ha fatto un castello di sabbia castello anche George ha fatto un castello di sabbia evviva! andava velocissima Peppa adora la sua barca a vela sta arrivando un'amica Susi Pecora ciao, che fate? ciao Susi stiamo giocando con le nostre barchette io ho portato il motoscafo per caso funziona a molla? no, ci sono le batterie, vedi? il motoscafo di Susi si muove grazie alle pile è davvero una bella barca scusi signora anatra arriva Danny Cane insieme a suo nonno buongiorno a tutti buongiorno Danny mio nonno ha costruito questo battello e me l'ha regalato accipicchia accipicchia, è davvero splendido ma come funziona? come quelli veri, col vapore basta spingere questa levetta wow che fantastico battello arrivano Rebecca Coniglio e la sua mamma ciao, cosa fate? ciao Rebecca stiamo giocando con le barchette vorrei tanto averne una anch'io Rebecca non ha una barca mi è venuta in mente un'idea per fortuna ho portato con me il giornale di oggi mi basterà prenderne solo una pagina ma quale potrei utilizzare? cronaca? sport? oh, la moda! no, non la pagina della moda va bene, userò quella della finanza quando ero ancora un maialino mi insegnarono a piegare i fogli di carta in questa maniera che cosa hai in mente, papà Pig? ed ecco a voi una bella barchetta di carta papà Pig ha fatto una barca per Rebecca grazie signor Pig e vive lì dentro? certo, quella è la sua casa guarda, sta uscendo di nuovo buongiorno signora lumaca senti nonno, c'è anche un letto nella casa della signora lumaca? oh, no, non c'è se io fossi una lumaca avrei un letto, avrei un tavolo avrei una sedia, avrei un frigorifero e anche il televisore nonno, che cosa mangiano le lumache? ecco, mangiano soprattutto le mie verdure ehi, smettila briconcella senti nonno Giorgio e io vogliamo giocare ad essere delle lumache usate questi cestini come se fossero i vostri gusci fatto, anche voi ora sembrate due lumachine briconcelle e adesso ci metteremo a mangiare tutta la lattuga di nonno Pig oh, state lontani dalle mie belle verdurine piccoli birbanti e quando nonno Pig inizia a brontolare ci nascondiamo nelle nostre casette sono arrivati gli amici di Peppa buongiorno, nonno Pig buongiorno, Susi per caso siete venuti a giocare con Peppa e con George? sì beh, non ho idea di dove siano finiti sono rimasto solo con queste due lumache, vedete? stavamo facendo finta di essere lumache possiamo giocare anche noi? non credo di avere abbastanza cestini per tutti quanti però potreste far finta di essere una cosa molto interessante che abbiamo in cortile una carata Rebecca Coniglio adora le carote no, Rebecca, non si tratta di questo che cos'è questo odore? forse è arrivato il momento di cambiargli il pannolino è disgustoso Peppa, anche tu quando eri piccola sporcavi il pannolino non è affatto vero mamma, posso restare con Peppa e George a giocare fuori? certo Chloe, è bello avere un fratellino così piccolo sì Alexander è davvero un tesoro vorrei che George fosse un piccolo maialino appena nato ho trovato George può fare finta di essere un maialino deve entrare in questa carrozzina è un'ottima idea no George non vuole fare il neonato George, se ora fai finta di essere appena nato ti prometto che con te sarò molto gentile per tutta la vita George ci pensa e potrai usare i miei giocattoli George ci pensa ancora e se ne avrai voglia ti farò usare anche i miei giocattoli George ha deciso sei davvero un maialino adorabile ecco Candy Gatto, Susi Pecora, Rebecca Coniglio e Zoe Zebra ciao come mai George è dentro a questa carrozzina? lui non è George è un maialino appena nato a me sembra proprio George noi stiamo facendo finta che sia appena nato è un maschietto o una femminuccia? una femmina no George non vuole essere una femminuccia d'accordo sei maschio allora guardate cosa ho portato il maialino vuole assaggiare un biscotto? oh no è troppo piccolo per i biscotti a George piacciono i biscotti forse possiamo dargli un solo biscotto Gugù è molto intelligente e poi è così grazioso una bolla George adesso prova a farne una tu immergi per bene il bastoncino nel sapone sollevalo fai un bel respiro e soffia George si sta impegnando molto ma ormai gli manca il fiato giù George non hai soffiato abbastanza forte se non ci riesci puoi provare in un altro modo immergi il bastoncino nel sapone sollevalo e muovi il braccio tante bolle è più divertente se ti metti a correre aspettami George si diverte a fare le bolle mentre Peppa le fa scoppiare adoro le bolle oh no è già finito il sapone papà mamma il sapone per le bolle è finito non preoccuparti Peppa mi è venuta un'idea mamma pig va a prendere un secchio per favore va bene papà pig Peppa del detersivo vado papà pig George tu invece portami una racchetta un secchio del detersivo e una racchetta cosa vorrà fare papà pig? e adesso mi serve dell'acqua berse il detersivo bene George dammi una racchetta per favore ti ringrazio e ora state a vedere e all'interno di questa mela ci sono degli altri semi per far crescere altri alberi di mele esattamente Peppa nonno nonno ti prego anch'io voglio piantare un seme ti va di piantare un seme per far crescere delle fragole? sì tantissimo questo piccolo seme diventerà molto presto una pianta di fragole deliziose per prima cosa devi fare un buchino nel terreno poi devo mettere il seme lì dentro e ricoprirlo con la terra vuoi che lo annaffio per te piccola? no nonno voglio annaffiarlo da sola molto bene adesso aspettiamo che il semino germogli Peppa e George aspettano che il seme cominci a germogliare non sta succedendo niente nonno dovrai essere un po' paziente Peppa il seme ci metterà molto tempo a germogliare Peppa, George è ora di tornare a casa ma stiamo aspettando che la mia pianta di fragole cresca mamma volevo mangiare le fragole per merenda non ti devi preoccupare la prossima volta che verrai il seme sarà diventato una bella piantina e noi ci mangeremo le fragole allora certamente andiamo Peppa ci vediamo presto nonno ci vediamo presto fragole nonno Pig si prende cura della pianta di fragole di Peppa dopo qualche tempo nonno Pig vede spuntare una piantina giorno dopo giorno la pianta diventa sempre più grande finché nonno Pig trova una cosa molto speciale le fragole anche la tua è una bici da bambini piccoli Peppa guarda hai ancora le rotelle attaccate io so andare in bicicletta senza le rotelle anch'io lo so fare anch'io avanti torniamo tutti sulla collina vieni con noi Peppa no penso che sia meglio se resto qui ci vediamo dopo Peppa a dopo Peppa vorrebbe togliere le rotelle dalla bicicletta papà io non voglio più avere le rotelle alla mia bicicletta credi davvero di poterne fare a meno? certo va bene Peppa adesso le togliamo papà Pig toglie le rotelle dalla bicicletta di Peppa sei sicura di voler andare in bicicletta senza le rotelle? certo non l'hai mai fatto prima d'ora posso farcela mamma posso posso questo non è divertente George andare in bicicletta senza rotelle non è semplice vuoi che ti aiuti io Peppa? sì per favore aiutami d'accordo pronti partenza via non lasciarmi da sola papà non devi preoccuparti ti tengo io stai andando davvero molto bene Peppa vai piano papà continua solo a pedalare Peppa sta andando da sola senza rotelle papà mi hai lasciato andare da sola stavi pedalando da sola da un secolo ormai davvero papà? complimenti sei molto brava Peppa sul serio mamma? so pedalare senza le rotelle guardatemi guardatemi so andare in bicicletta con i grandi adesso Danny, Susy, Rebecca guardatemi guardatemi non mi servono più le rotelle adesso guardate che brava peppa e George aiutano il papà a raccogliere la legna per il fuoco George, io raccolgo i rami e tu invece li porti raccogliere la legna è divertente bene, quei rami bastano questo è davvero uno splendido falò adesso lo accendo eccoti i fiammiferi non mi servono i fiammiferi papà, come puoi accenderlo senza usare i fiammiferi? lo accenderò come si faceva una volta semplicemente strofinando tra loro questi due ramoscelli il papà sta sfregando due ramoscelli per accendere il fuoco ma dov'è il fuoco papà? tra un attimo arriva evviva! è stato un gioco da ragazzi ora possiamo riscaldare la zuppa di pomodoro ah, ascoltate i suoni della natura questo suono che cos'è? questo è il suono dei grilli che cantano e quest'altro che cos'è? questo è un gufo guarda, eccolo lì che cos'è questo rumore invece? oh, non so dirtelo è la pancia di papino la mia pancia che brontola è uno dei migliori suoni della natura significa che è ora di mangiare mi piace la zuppa di pomodoro anche a me ecco un altro dei caratteristici suoni della natura di papà eh, cos'è? coraggio bambini dentro la tenda è ora di dormire su non ci entreremo mai tutti questa tenda è troppo piccola è perfetta aspetta entrate su vai un pochino più dentro mamma sono nella mia casa sull'albero George, vuoi entrare anche tu nella casa sull'albero? sì? chi ha bussato? un giovane di nome George vorrebbe farti visita puoi entrare? soltanto se si toglie le calosce infangate George, togliti le calosce e poi puoi andare nella casa sull'albero chi ha bussato? George? sì? chi ha bussato? sono la mamma c'è posto per degli altri ospiti? devi prima dire la parola d'ordine e dopo puoi entrare in casa ho capito e quale sarebbe la parola d'ordine? avvicinati, devo dirtela all'orecchio la nostra parola d'ordine è il gran pancione di papà però niente male parola d'ordine il gran pancione di papà è giusta! il gran pancione di papà trovo che sia una frase niente affatto divertente mamma, prima di entrare in casa ti devi togliere le calosce ma certo anche per papà c'è posto devi dire la parola d'ordine, papà potrei avere una parola d'ordine diversa, per favore? no! oh, d'accordo, va bene il gran pancione di papà esatto! adesso puoi entrare, papà vieni, ma togliti le calosce per quanti sforzi faccia non riesco a passare dalla porta è perché hai la pancia troppo grossa, papà George vuole saltare per primo nella pozzanghera grande aspetta un attimo, George devo controllare che tu non corra pericoli perfetto, non corri alcun pericolo scusami tanto, George ma è solo fango peppa e George amano saltare nelle pozzanghere di fango coraggio, George andiamo subito a farci vedere da papà oh, cosa vedo nei miei occhi? papà, papà indovina cosa abbiamo fatto io e George fatemi riflettere avete guardato la televisione? no, non è questo, papà avete appena fatto un bagno? no, non è questo ho capito vi siete divertiti a saltare nelle pozzanghere di fango sì, sì, papà ci siamo divertiti a saltare nelle pozzanghere oh, oh, oh e avete combinato un disastro oh state tranquilli è solo un po' di fango dobbiamo pulirlo in fretta prima che la mamma se ne accorga papà, senti dopo che avremo pulito tutto venite a giocare anche tu e la mamma fuori con noi? certo possiamo giocare insieme in giardino peppa e George indossano le galosce mamma e papà indossano le galosce peppa ama saltare su e giù nelle pozzanghere di fango tutti amano saltare su e giù nelle pozzanghere peppa si sta divertendo un po' troppo a prendere in giro George peppa? scusa, stai prendendo in giro George? no mamma, davvero gli stavo solo insegnando come si gioca a palla oh, davvero? conosco un gioco che insegnerà a George come fare si chiama maialino al centro peppa, tu devi prendere la palla e metterti lì e tu, George, devi rimanere dove sei bene voi dovrete tirarvi la palla a vicenda e io dovrò fare di tutto per prenderla io sono il maialino al centro la mamma è il maialino al centro prendi la palla, George oh, l'ho mancata George ha afferrato la palla urrà! ben fatto, George ora devi tirare tu la palla a peppa oh, prova di nuovo oh, prova di nuovo George non riesce a tirare la palla oltre mamma pig coraggio, George lancia la palla verso di me che sciocchino che sei lo so fare anch'io così Peppa vuole copiare George ma è troppo grande ed è rimasta incastrata ho preso io la palla, Peppa adesso tocca a te fare il maialino George, prendi la palla urrà! l'ho presa! George, ora tocca a te fare il maialino prendi la palla, George afferra la palla, George prendila, George Peppa lo sai che George soffre un po' di vertigini scusami tanto, George vieni, andiamo a fare le acrobazie ci sono anche Susie e Danny ciao ragazzi ciao Peppa mi butta! non lo fate per niente bene ora vi faccio vedere io come si va sul copertone fatevi indietro pronti? ai posti? via! guardatemi tutti volo come una rottinella non riesco più ad uscire Peppa è incastrata nel copertone non c'è niente da ridere, capito? a me sembra abbastanza divertente dovremo tirarti fuori gli amici di Peppa la aiutano a liberarsi è vero! è incitante del salvataggio George, che dici? hai voglia di arrampicarti anche tu? la scala è piuttosto alta e a George non piace stare in alto mi dispiace George perché non vai un po' sullo scivolo? evviva lo scivolo! evviva! a Peppa piace lo scivolo a tutti piace lo scivolo mamma, papà, guardatemi pronti? ai posti? via! 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 George vuole salire sullo scivolo sei sicuro, George? è abbastanza alto? questa mappa è davvero complicata potresti aiutarmi, papà? ma certo, Peppa sono molto bravo con le mappe è proprio complicata papà Pig guarda che così stai tenendo la mappa sotto sopra già, me ne ero accorto è facile! la croce indica dove si trova il tesoro ma in quale punto del giardino ci sono quei due meli? io non lo so volete un piccolo aiuto? sì, grazie il primo indizio è in una bottiglia ma dove sarà questa bottiglia? è là, l'ho vista Peppa ha trovato il primo indizio un messaggio in bottiglia ecco, guardate è questa la bottiglia sei stata bravissima, Peppa vediamo un po' che cosa dice il messaggio oh, a quanto sembra è stato scritto da un pirata mamma, potresti leggermi il messaggio del pirata? questo pirata ha veramente una pessima calligrafia no, la calligrafia del pirata è eccellente io non riesco neanche a leggerla il pirata ha scritto molto chiaramente seguite le frecce dobbiamo seguire le frecce? George ha trovato il secondo indizio dei rami che formano delle frecce guardate, puntano da quella parte Peppa e George seguono le frecce guarda, George, una chiave Peppa ha trovato il successivo indizio una chiave bravissima, Peppa ora non vi rimane che trovare il baule del tesoro che questa chiave aprirà però sono finiti gli indizi, nonna forse devi controllare di nuovo la mappa guarda, Peppa sulla mappa ci sono due alberi di mele già questo è un albero di mele e anche questo è un albero di mele quante storie per una cosa da nulla sì, tutti noi dobbiamo proteggere la pelle vieni con me, George prima di tutto dobbiamo gonfiare la piscina il papà sta gonfiando la piscina un gioco da ragazzi Peppa tiene il tubo e la mamma apre il rubinetto dov'è finita l'acqua? Peppa e George vanno matti per la piscina gonfiabile gelato, gelato è la signora coniglio, la gelataia gelato quando fa molto caldo la signora coniglio vende il gelato mamma, papà possiamo prendere il gelato, per favore? va bene visto che oggi fa così caldo io vi do il mio permesso urrà! posso prenderne uno anch'io, vero? il gelato piace a tutti salve signora Pig, Peppa e George buongiorno signora coniglio che tipo di gelato volete? potrei avere un cono per favore signora coniglio? ma certo che puoi, Peppa grazie tante un cono anche per me e lo stesso per mio marito, per favore e che gelato prende il nostro giovanotto George? dinosaurio! un dinosauro? sei uno sciocchino sa, lui risponde sempre a dinosauro quando gli chiedi qualcosa beh, allora sei proprio fortunato perché mi è rimasto l'ultimo ghiacciolo a forma di dinosauro qui dino-sauro guardate, il vento si sta alzando ora che c'è vento l'aquilione può volare il vento è piuttosto forte ora il vento è molto forte ora no, George! Peppa! grazie tante, papà papà Pig fa volare l'aquilone urrà! vai a andare più in alto papà Pig fa volare l'aquilone molto in alto sì, ho un po' di esperienza in queste cose fa attenzione agli alberi l'aquilone potrebbe impigliarsi non preoccuparti so bene quello che sto facendo oh no papà Pig ha fatto impigliare l'aquilone su un albero oh no non piangere vedrai che papà riprenderà l'aquilone urrà! ebbè dunque attenzione c'è una grande pozzanghera di fango Peppa e George amano saltare nelle pozzanghere possiamo saltare nella pozzanghera? per favore no, non voglio che vi sporchiate state indietro ora, piccoli fa attenzione, papà Pig so bene quello che sto facendo ti prego, fa attenzione ancora un altro po' e ci sei, papà comunque più tardi farò un po' di ginnastica anche se nessuno di voi ne ha voglia mangiamo ottima idea mamma Pig sono davvero affamato squisito credo che schiaccerò un pisolino non avevi detto che avresti fatto una corsetta, papà Pig? più tardi guardate, è un piccolo stagno con delle papere mamma, possiamo dargli da mangiare? certo ecco, dategli il pane che è avanzato a Peppa e George piace dar da mangiare alle papere mamma, credo proprio che ne vogliono ancora gli avete dato tutto il pane rimasto hanno mangiato abbastanza mi dispiace signora papera ma abbiamo finito il pane le papere vogliono mangiare ancora questa sì che è ginnastica, papà Pig che cosa? e voi che cosa volete? Peppa ve l'ha già detto, il pane è finito mamma, però abbiamo ancora la tua torta alle fragole va bene Peppa, se ne avanzerà un po' la potrete dare alle papere la torta alle fragole fatta in casa dalla mamma piace a tutti c'è una vespa io odio le vespe su, non esagerare mamma Pig è soltanto una piccola vespa vattene via, ho paura resta immobile mamma Pig vedrai che volerà via hai visto? non dovevi far altro che restare immobile ehi, che cosa vuoi? sparisci aiuto certo che è davvero bellissima come vorrei essere una farfalla Peppa gioca a fare la farfalla io sono una farfallina anche Giorgio vuole giocare Giorgio, sono io la farfallina quindi tu devi essere un'altra cosa ci sono puoi essere un varme che striscia guardate, guardate, sono una farfalla poverino, Giorgio non vuole fare il verme vuole fare la farfalla Giorgio, quando ero ancora un piccolo maialino mi divertiva tantissimo giocare al verme che striscia è molto facile fare il verme ti faccio vedere come si fa ecco, innanzitutto tu ti devi sdraiare con la pancia a terra poi devi andare in giro strisciando io sono un verme strisciante Giorgio e il nonno si divertono molto a far finta di essere vermi io sono una farfallina, sono una farfallina guardatemi, sono una farfalla sì, Peppa, sei una bellissima farfalla oh nonno, Giorgio, che cosa state facendo? noi siamo dei vermi striscianti anch'io voglio essere un verme strisciante sono un verme strisciante sono un verme strisciante sono un verme strisciante sono un verme strisciante tu come stai? ti voglio bene sono un verme strisciante ciao Peppa ciao George ci vediamo dopo vi va di giocare? sì, Chloe, giochiamo a rincorrerci Peppa, adora giocare a rincorrersi giocate ancora a rincorrervi quello è un gioco per bambini piccoli oh, veramente ti ho detto di giocare a questo soltanto perché piace tanto a George va bene, allora giochiamo per George voi giocate con le regole vere o con le regole per i neonati? con le regole vere iniziamo Peppa, cominci tu prendimi se ci riesci inizia Peppa deve rincorrere lei, Chloe e George non mi prendi George, guarda che tu non puoi scapparmi sei troppo piccolo vieni qui uffa, così non vale Chloe tu stai aiutando George lo faccio solo perché è piccolo vuoi che aiuti anche te? no, non mi serve aiuto io sono una bambina grande come te allora coraggio Peppa prova ancora a prenderci non mi prendi non ci prende questo è un gioco sciocco giochiamo a qualcos'altro adesso? d'accordo io conosco un gioco molto bello per bambini grandi si chiama 1, 2, 3 stella 1, 2, 3 stella voglio giocare a 1, 2, 3 stella come si gioca? un giocatore si gira e si mette di spalle e gli altri si avvicinano pian pianino bene, bene io voglio stare di spalle Peppa si mette di spalle mentre è girata gli altri si avvicinano ma se Peppa si gira e vede che si muovono devono tornare al punto di partenza George, ti ho visto ti sei mosso torna al punto di partenza toccata ho vinto io ti sei mossa prima che fossi pronta le regole dicono che mi posso muovere quando voglio non è vero George? ora tocca a Chloe mettersi di spalle Peppa e George devono restare immobili